Legno, G, N. Alcune persone faticano a pronunciare la Gne come se fossero due suoni a sé stanti. Se si vedessero come un unico suono, Gne, la pronuncia della parola verrà più fluida. Legno, Lagna, Lavagna. Il pensiero a volte è legnoso, al punto tale da realizzare per noi una realtà ostacolante anche nella pronuncia delle parole. Siamo di legno a volte, ma il legno è rilassante, quindi in un suono unico. Di fatto ogni volta che stiamo sulla divisione ci mettiamo degli ostacoli, dovremmo vedere tutto quanto un po' più come un suono unico.